Se non bestemmio guarda Aspetta un secondo, va là, dio cane Ah, e cosa? Come si chiamano? Gaetano? Dio porco, se venite avanti ancora vi do un pugno! Io non ce l'ho! È possibile! La faccenda è seria, è deciso a prendersi casa sua! Dopo dopo le partite, dai! Davvero? Batte fangulo! Questo lo...